Noi tutti operatori dell'emergenza siamo pronti a fornire l'assistenza sanitaria necessaria a svolgere in sicurezza la sedicesima tappa del Giro d'Italia e siamo fieri ed orgogliosi di accogliere i corridori e i tifosi nella splendida cornice delle nostre Dolomiti. Nessuno sport più del ciclismo rappresenta l'energia e la voglia interiore dell'uomo di affrontare e superare le difficoltà con costanza, tenacia e sacrificio. In questo ci sentiamo accomunati noi sanitari ai corridori. Siamo come in cima a una salita pronti ad affrontare l'ultima discesa prima del traguardo. Vi aspettiamo tutti nella speranza che sia per tutti un giorno di festa.